Radio Streghetta, l'oroscopo. Buongiorno a tutti dalla Rinascente del Centro Servizi a valore aggiunto. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.it e ascolta il tuo oroscopo di oggi. Ariete! Siete un po' stanchi nelle ultime settimane, per alcuni di voi si sono cavallate una serie di situazioni che vi hanno un po' destabilizzato, ma cercate di tirare sul morale, nulla è irrisolvibile, quindi cerchiamo di prendere il capo del filo della matassa e con calma tutto si risolverà. Toro Attenti alle insidie, evitate di essere troppo precipitosi nel fare qualcosa, perché sotto una pattina di tranquillità potrebbe celarsi un pericolo invisibile, date ascolto ai consigli delle persone più esperte e dubitate di chi dovesse tentare di coinvolgervi in qualche attività strana. In amore supererete un limite. Gemelli Tutti i buoni propositi degli ultimi mesi riguardo a una faccenda che assolutamente vi stava a cuore ha preso improvvisamente tempo e questo vi renderà abbastanza nervosetti, giustamente direi, ma cercate almeno di consolarvi con l'amore che invece sembra aver superato quei momenti di domande senza risposta. Cancro Movimenterete una situazione statica, non saprete stare con le mani in mano e vi adopererete per dare l'assistenza a qualcuno che per voi conta parecchio. Riceverete elogi e attestati di stima, di seguito a una coraggiosa presa di posizione. In amore la persona del quale vi guarderà con occhi diversi. Leone La giornata partirà sotto tono, non demoralizzatevi perché nel proseguio ci sarà un deciso cambio di rotta che coinciderà con una visita in attesa. Sorrisi e divertimento sono alle porte. Dovete solamente lasciarvi coinvolgervi nelle attività degli amici. In amore prenderete sul serio un'offerta proferita con leggerezza. Vergine Avrete la necessità di riflettere ma farete ciò che vi compete, ciò che desiderate, per poter ridurre al minimo i rapporti con l'esterno. Bilancia Tutti vi faranno apparire un po' freddi e distanti da una situazione non familiare ma lavorativa o sociale, che vi innervosirà un pochino in quanto voi riterrete di avere delle ottime ragioni. In amore una telefonata o un messaggio in più di chi amate non guasterebbe. Scorpione Attenzione a non mostrarvi troppo accondiscendenti. Dovrete moderare il vostro senso di riconoscenza nei confronti di una persona. La vostra gratitudine potrebbe essere male interpretata da chi non è abituato a ricevere attenzioni. In amore una speranza andrà alimentata per potersi concretizzare. Sagittario Bisogna essere freddi e ragionare. La situazione di certo che si presenterà è delle più ingarbugliate, ma saprete trovare una vittoriosa soluzione. In amore troverete il tempo per farvi coccolare. Capricorno Evitate di fare calcoli. Le cose andranno bene. Se sarete voi stessi senza porvi limiti in amore, sorprendente, qualcuno vi stupirà. Acquario Mischierete le carte in tavola. Organizzerete un caos ordinato di cui capireste soltanto voi le reali intenzioni che vi spingono. Dovrete cercare di lavorare con calma senza perdere la lucidità, perché in questo momento il vostro apporto è fondamentale. In amore cercherete di mostrarvi dolci e comprensivi. Pesci L'unione fa la forza. Ebbene, ricorderete oggi, pensando a quando sia importante lavorare con il gruppo a cui appartenete. In amore dovrete difendervi da un'accusa.